No, no, certamente. Allora, intanto grazie dell'invito. Capisco molto bene che l'esigenza di questo incontro è cercare di fare un piccolo panorama dei modelli delle filosofie della storia che sono spesso impliciti nei nostri discorsi e che spesso sono molto influenti anche nelle scelte, nelle scelte non solo personali ma nelle scelte pubbliche, sociali, politiche. Un'implicita filosofia della storia può essere un elemento determinante di una opzione anche molto forte anche sul piano politico o geopolitico. Per esempio quello che stiamo vedendo ora nel triste conflitto in Ucraina è frutto in parte di una certa lettura della storia, come si è visto. La lettura della storia data da Putin nel discorso del 21 di febbraio diceva sostanzialmente che per ragioni storiche l'Ucraina in realtà non è altro che un pezzo del territorio russo, è stata creata come stato indipendente dagli Eni ma è stato un errore, quindi dobbiamo riappropriarci di quel territorio per compiere il destino della madre Russia. Capite che qui c'è l'idea di uno sviluppo lineare che va in direzione di un certo ruolo storico di un paese, cosa che è normale anche se tragica nelle grandi nazioni e in quelle nazioni che o si autodefiniscono come imperi o sono imperi di fatto o si comportano come imperi anche se lo negano. Quindi è un po' importante sapere qual è la filosofia della storia nella quale ci troviamo immersi e quella in cui si trovano immerse altre persone le cui decisioni ci sembrano incomprensibili se non comprendiamo quel punto di vista. Allora, per fare un quadro io mi limiterò molto e mi limiterò solo a tre modelli di filosofia della storia che si ritrovano nella filosofia moderna e naturalmente nella filosofia occidentale. Nel fare questo faccio una scelta abbastanza arbitraria ma non troppo perché sulla stessa natura e definizione della filosofia della storia ci sono molte diverse opinioni. Una opinione molto forte è quella che è stata per esempio sostenuta con buoni argomenti da Pietro Rossi in un libro molto utile di filosofia della storia, si chiama Il senso della storia, pubblicato dal Mulino, che è un manuale di filosofia della storia in cui però Rossi dice che si può parlare di filosofia della storia solo a partire dal Settecento e non prima. Questo perché lui dice che la filosofia per definizione cerca di comprendere l'intero, questa è la definizione tipicamente hegeliana della filosofia, cerca di vedere le cose nella loro totalità e prima del Settecento non si ha sostanzialmente la pratica di una storiografia globale. La storiografia precedente al Settecento è sempre o eurocentrica o diciamo sinocentrica, comunque è centrata sulla comunità locale e normalmente non barca i confini di questa comunità, anche quando i confini di questa comunità sono relativamente ampi. Allora finché non c'è stata una storia globale, cioè quella che nel Settecento, a cominciare in realtà già dalla fine del Seicento, si chiamava storia universale, finché non c'è una storia universale, cioè una storia di tutto il globo, non c'è una filosofia della storia, perché non c'è una totalità di cui parlare. Questa è una definizione controversa, a suo sostegno c'è il fatto per esempio che c'è un passaggio cruciale nella storia di questa disciplina, che è quello tra Bossuet e Voltaire. Allora Bossuet, vescovo, cattolico, controriformista, scrive una storia universale in cui, tra la fine del Seicento e il prima del Settecento, in cui sostanzialmente la storia viene raccontata a partire dalla Bibbia. Cioè si prende la Bibbia, e in particolare l'Antico Testamento, come un testo storico. Lo si interpreta in maniera anche allegorica, ma assegnando alla vicenda del popolo ebraico la primogenitura fra i popoli. Per cui la vicenda del popolo ebraico è la vicenda dei primi uomini. E il racconto, in particolare ad Amitico, viene considerato il vero inizio, vero, reale, inizio della specie umana. Ora, questo è qualcosa che nessuno oggi farebbe. Il racconto del Genesi è un racconto ovviamente allegorico in prima battuta, e non lo si può leggere come una testimonianza storica. È un testo, appunto, il cui carattere religioso rimanda a un simbolo, ed è il simbolo del primo uomo, della prima donna, e della prima vicenda di relazione fra uomo, natura e Dio. Ma Bossuet prendeva alla lettera questo racconto e ne faceva all'inizio della storia umana. Tra l'altro, ovviamente, la storia umana significava poi il passaggio dall'Eden alla terra promessa, la cattività prima, la terra promessa, poi tutta la vicenda biblica del popoletto, l'avvento di Cristo, e poi fino ai regni franchi, e quindi al sacro romano impero. Dunque questo racconto era estremamente parziale. Ora, nel 1759 Voltaire pubblica il saggio sui costumi delle nazioni, e questo saggio è un corposo volume, in realtà sono due volumi, in cui Voltaire dice, guardate bene, la storia umana non è affatto come ce la racconta Bossuet. La storia umana è fatta di popolazioni diverse, anche lontane, sparse su tutto il globo, e se proprio dobbiamo individuare una prima consapevolezza storica, una traccia della vicenda umana che sia consapevole di sé, beh, la ritroviamo in Cina e non in Europa. La tradizione cinese di registrare gli eventi in una maniera regolare e uniforme è antecedente alla storiografia europea. In questo senso Voltaire però inaugura la filosofia della storia, e anzi, ripubblicando il saggio sui costumi delle nazioni, nel 1765 Voltaire pubblica come introduzione un saggio che si chiama Filosofie de l'histoire, cioè Filosofia della storia, ed è la prima volta che questa espressione compare nella filosofia in generale, nella filosofia occidentale, ma in generale in filosofia. Questo per Rossi, come dicevo prima, significa la vera nascita della disciplina. La disciplina c'è quando c'è, primo, un racconto delle vicende umane che tiene conto di tutto il globo, quindi Cina, India, Asia, Africa, Europa e Americhe, e questo accade con la ricostruzione che fa Voltaire e altri insieme a lui in quel periodo. Ricordate che gli illuministi sono affascinati dalle culture esotiche e ne sono interessati anche in termini storici per fare questa domanda su come è nata la vicenda umana sul globo. Quindi Voltaire è il documento principale di questa svolta e, secondo, Rossi dice si può parlare di filosofia della storia perché viene coniata l'espressione sulla base di questa vicenda universale. Quindi la trasformazione della storia universale in filosofia dell'histoire è la data di nascita della disciplina. Ora, a margine, io non condivido questa tesi, penso che si sia una teoria della storia e in particolare una concezione filosoficamente impegnata della storia anche nell'antichità. Ritengo che le dottrine del tempo in Platone e in Aristotele ne facciano parte. Ritengo che le attività e le riflessioni teoriche degli storici ma appunto Tuccidide, Tacito sono riflessioni di carattere filosofico. Ritengo che tutta la vicenda medievale per esempio la città di Dio, di Agostino sia un tentativo di costituire un'interpretazione storica della vicenda umana che mette in relazione storia terrena e storia della salvezza su due piani diversi ma collegati fra di loro e dunque un racconto della storia della filosofia della storia sarebbe molto lungo cioè dovrebbe partire appunto dai primi tentativi da Erodoto essenzialmente e dovrebbe poi arrivare al mondo contemporaneo. Però per semplicità e per precisione accolgo qui questa tesi di Rossi e dico va bene i modelli di filosofia della storia che ci interessano più da vicino sono quelli in cui la storia è la storia globale e dunque parliamo di modernità e anzi dall'illuminismo in poi. Il Settecento è il secolo della storia il Settecento è il secolo in cui si prende con sapevolezza che intanto c'è una storia globale appunto e inoltre che la storicità dell'esistenza umana è il dato insuperabile cioè è il dato a partire dal quale noi dobbiamo affrontare la definizione dell'umano delle relazioni sociali dell'etica della politica appunto in un contesto storicizzato. Allora per appunto esemplificare un po' questa modalità dal Settecento in avanti io prenderò tre esempi questi tre esempi sono Kant, Hegel e Nietzsche. Allora naturalmente perché questi tre? Intanto perché sono tre autori la cui influenza non può essere sottovalutata e poi perché in modi diversi la riflessione sulla storia è per questi tre autori assolutamente centrale e tutti e tre hanno una filosofia della storia anzi per la verità per esempio in Nietzsche si trova più di una filosofia della storia c'è una rete di concezioni della storia che Nietzsche articola nei suoi vari scritti in modo non sistematico come sempre lui fa ma in modo molto chiaro allora cominciamo però per ordine e cominciamo appunto da Kant allora naturalmente è complesso ricostruire in pochi tratti la filosofia della storia di un autore come Kant che è un autore molto prolifico e soprattutto molto articolato estremamente sistematico cominciamo da questo la riflessione sulla storia in Kant è fondamentale nonostante il fatto che la critica della ragione pura sia un testo sulla condizione di possibilità e i limiti dell'esercizio della ragione pura quindi della ragione a priori e quindi in una condizione in cui non si dà il contenuto dell'esperienza come oggetto del sapere l'oggetto del sapere qui sono le forme della ragione nonostante questo in realtà sappiamo che in Kant il primato per quanto attiene alla conoscenza reale sta nell'orizzonte della prassi come sapete come ricorderete in Kant la c'è la filosofia prima la filosofia prima è essenzialmente la filosofia pratica e in particolare Kant nella introduzione alla critica della ragione pratica non della ragione pura ha questa espressione che è emblematica Kant dice nello studio dell'uso pratico della ragione ho raggiunto la conclusione secondo cui il concetto di libertà è il fondamento di tutta la filosofia e in particolare è il fondamento di tutta la filosofia critica di tutto il sistema critico dunque è nella ragione pratica che Kant arriva a definire un argomento a determinare a sviluppare un argomento per la dimostrazione del fatto che siamo costretti ad assumere che la libertà sia reale non riassumo questo argomento ma questo è centrale e se la libertà non fosse reale non avremmo il sistema della conoscenza per Kant quindi non soltanto il sistema dell'etica il sistema della politica ma se la libertà non fosse reale non avremmo nemmeno il sistema delle scienze perché in ultima analisi anche la tesi sulla completezza del mondo o la sua incompletezza dipende da questa questione cioè se vi è nel mondo anche un elemento di causa libera oppure no allora non perseguo oltre questo questo percorso ma mi dirigo verso la prassi cioè per Kant il vero motore di tutta la conoscenza pratica è la nozione di libertà in che modo allora per capire questo bisogna spostarsi su altre due opere di Kant una è la critica del giudizio e l'altra è un testo del 1784 che si chiama idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica quindi questo testo in particolare quest'ultimo è veramente un testo di filosofia della storia è un testo importante ho anche curato una traduzione di questo testo con il testo tedesco a fronte perché è un testo spesso frainteso che cosa fa Kant nella idea universale in prospettiva cosmopolitica lui scrive nove tesi queste nove tesi sono collegate una con l'altra in una maniera progressiva si comincia dalla tesi più generale per cui tutti gli enti dice Kant sono destinati a sviluppare le proprie potenzialità e si conclude nella nona tesi o meglio nell'ottava tesi che chiude il giro con l'idea che lo sviluppo di tutte le facoltà degli esseri viventi incluso l'uomo consiste in una relazione cosmopolitica di tutti gli esseri umani e poi dei viventi in una relazione cosmopolitica fra stati sovrani abitati da cittadini liberi questa è l'ottava tesi nella nona tesi Kant dice una cosa interessante su cui tornerò fra un attimo perché adesso mi soffermerò un po' a spiegare queste tesi ma Kant dice una condizione affinché si realizza realizzi una realtà e una relazione cosmopolitica pacifica in cui appunto questi stati stanno in relazione fra loro in una condizione di pace o di non belligeranza e quindi di sviluppo di ciascuno stato una delle condizioni perché si realizzi una cosmopoli un ordine cosmopolitico per meglio dire è che ci sia alla base una condivisa filosofia della storia in cui questo obiettivo sia riconosciuto cioè qui Kant sta dicendo se vogliamo che sia possibile un ordine cosmopolitico di relazioni pacifiche fra stati sovrani abitati da cittadini liberi ed eguali fra loro dobbiamo avere una filosofia della storia che dice lo scopo della storia di questi esseri viventi che chiamiamo esseri umani è quello di vivere in pace in un ordine cosmopolitico se la nostra concezione della storia è invece una concezione in cui per esempio gli esseri umani sono nati per aggredirsi reciprocamente gli esseri umani sono homo homini lupus e non c'è nessuna evoluzione nella relazione fra gli esseri umani nella storia non c'è nessun progresso morale nessun progresso politico la storia è soltanto come scriveva shakespeare una favola raccontata da un idiota piena di suono e furore che non significa nulla se abbiamo una concezione nichilista della storia in cui non vi è valore vi è soltanto rapporti di forza e guerre e stati di non belligeranza temporanei mentre la regola è la guerra se noi abbiamo questa concezione avremo una storia fatta così cioè avremo una storia che soltanto sarà fatta di guerre se la logica di potenza è l'unica logica che noi ammettiamo come legge della storia noi avremo una storia fatta di logica di potenza Kant dice io non nego che la logica di potenza sia quella che noi osserviamo non nego che dal legno storto dell'umanità non si possa trarre mai nulla di completamente dritto attenzione completamente dritto qualcosa di un po' dritto si riesce a trarre Kant è pessimista ma non fino al punto di negare che l'uomo possa fare qualcosa che ha senso che è valido e che è buono allora se io non penso che nella storia vi sia il potenziale di una relazione giusta fra gli esseri umani e di una relazione giusta fra gli esseri umani e il creato cioè il mondo gli animali i viventi la terra se non ho questa speranza questo auspicio sono io a creare una storia fatta di aggressione e violenza al contrario una filosofia della storia che riconosce che ci sono linee di tendenza quello che lui chiama light faden cioè un filo a piombo bisognerebbe tradurre così un filo a piombo che ha una direzione una traccia una linea un filo rosso si traduce per lo più un filo rosso che significa che vi è la tendenza la tensione l'aspirazione a muoversi come dice Kant dal male faticosamente in direzione del bene questo se io ho questa concezione è più probabile che la storia sia così e per Kant questa concezione non dipende da questa speranza perché questo sarebbe un argomento molto molto debole e molto fallace ma questa concezione per cui questa linea di tendenza verso un possibile progresso è valida appunto è una tesi che lui cerca di dimostrare in questo testo e cercherà di dimostrare anche nella critica del giudizio ora sulla critica del giudizio il discorso sarebbe complesso e non mi ci voglio addentrare qui anche per ragioni di tempo però la linea di Kant è quella tipica dell'illuminismo ma con un'attenzione la tipica filosofia della storia dell'illuminismo si basa sull'idea di progresso l'idea di progresso però negli autori illuministi quasi tutti non è quella a cui siamo abituati dal senso comune il senso comune interpreta la parola progresso che oggi ha una pessima stampa in termini quasi esclusivamente tecnico-scientifici per noi progresso significa progresso delle conoscenze nel senso dell'accumulazione di conoscenze scientifiche basate sul solo metodo scientifico e significa progresso tecnologico basato sulla innovazione continua di strumenti che presuppongono lo stadio precedente per attivare rendere possibili capacità tecniche sempre ulteriori questo progresso tecnico-scientifico ci spaventa oggi perché è quello che è responsabile dell'inquinamento della crisi del pianeta delle guerre nucleari della distruttività della capacità umana certo è anche il progresso industriale che consente un ampio livello di benessere nelle società particolarmente industrializzate ma sappiamo anche che questo progresso industriale è legato a profondissime iniquità profondissime ineguaglianze e quindi gli disordini sociali ora diciamo questa nozione di progresso è molto riduttiva gli illuministi non identificavano affatto il progresso solo e soltanto con lo sviluppo scientifico e quindi tecnologico anzi lo stesso Condorcet che in qualche modo è quello che scrive questo tablois storico dei progressi della natura umana questa tavola storica dei progressi della natura umana dice è vero che l'accumulo delle conoscenze e lo sviluppo di sistemi cognitivi sempre più articolati e complessi ci condurrà in avanti ma lui stesso dice guardate che questo non è vero progresso il progresso delle conoscenze nel senso dell'accumulazione non è ciò che io chiamo progresso ciò che io chiamo progresso è una società che diventa poco alla volta più giusta più equa in cui sono riconosciuti per esempio Condorcet era un fautore cosa rarissima negli autori maschi del settecento un fautore dei diritti delle donne e dell'eguaglianza delle donne rispetto agli uomini era un fautore della democrazia un fautore di condizioni in cui il suffragio fosse allargato il più possibile a chi poteva esercitare la vita politica e così via allora persino Condorcet ha l'idea che non c'è progresso se c'è solo la scienza il vero progresso è una vita pacifica equa democratica di uguali diritti allora Kant voce dell'illuminismo è ancora più radicale su questo la sua idea di progresso è quella di uno sviluppo delle capacità di relazione umana nel senso della pace e nel senso del coordinamento cosmopolitico quindi intanto mi preme dire questo la filosofia della storia di Kant come quella dell'illuminismo in generale è una filosofia in cui la nozione di progresso non è esclusivamente la nozione di progresso scientifico tecnologico anzi è un progresso umanistico umanistico politico e sociale il secondo elemento che c'è in Kant è questo progresso umanistico che dovrebbe condurre a un ordine cosmopolitico di stati sovrani e liberi abitati da cittadini liberi non è garantito e non è automatico questo perché Kant come ho detto poco fa concepisce la dinamica storica come dipendente in maniera determinata determinante dalla libertà umana e la libertà umana non si orienta sempre sistematicamente al bene la libertà umana appunto in realtà spesso si determina non in direzione del giusto e del bene ma in direzione dell'ingiustizia e del male appunto Kant ha una concezione non ottimistica della natura umana la natura umana è quella per cui l'inclinazione più frequente è a lasciarsi trascinare dalle inclinazioni verso qualcosa che non è né giusto né buono tuttavia Kant è proprio l'autore che dice no ma attenzione questa inclinazione ci appartiene come ci appartiene la libertà di essere invece agenti morali agenti capaci di determinarsi in base alla regola della ragione l'imperativo categorico il rispetto il rispetto reciproco e quindi il riconoscimento reciproco di essere agenti autonomi che meritano assoluto rispetto che hanno dignità intrinseca e che possono vivere insieme se definiscono insieme un ordine giuridico cioè una società civile basata sulla somministrazione del diritto come dice lui cioè sul sul diritto costituzionale creato da agenti civili cioè cittadini capaci di scrivere una costituzione e darsi delle regole di convivenza allora per Kant quindi l'idea è questa in quel testo che si chiama l'idea per una storia universale Kant dice gli enti in generale tendono a dispiegare le proprie potenzialità gli umani in particolare tenderanno a sviluppare le proprie potenzialità fra cui vi è un certo uso della ragione nella libertà ora un uso razionale della libertà cioè l'autonomia non è qualcosa che uno possa fare in maniera atomistica cioè fuori dalle relazioni umane allora saremo veramente liberi dice Kant in questo testo quando avremo costituito le nostre relazioni sociali in una maniera ordinata secondo il diritto e il diritto significa una legge civile che noi generiamo che noi creiamo e alla quale ci possiamo sottomettere perché è una legge che tutti accetterebbero perché tutti accettano che tutti possono accettare appunto l'idea dell'universalizzabilità della massima questo significa che una società civile diciamo si basa sulla sulla sulle leggi non sul potere si basa sulle leggi inoltre dice Kant un popolo uno stato non può determinare la sua natura esclusivamente in base al suo diritto interno ogni popolo definisce se stesso e le proprie regole in base alle relazioni col diritto esterno cioè con il diritto che internazionale cioè le relazioni con altri popoli e altri paesi allora lui dice è per questo che è impossibile trovare una società libera se non sono liberi e regolati dal diritto i rapporti con le altre società è per questo che bisogna andare verso una direzione cosmopolitica questo bisogna andare è una possibilità per gli umani è chiaramente quello che si chiama progresso ma come vedete è una possibilità non è una necessità per Kant il progresso morale politico cosmopolitico dell'umanità è un possibile abbastanza improbabile tutto sommato ma che è una tendenza che noi non smetteremo mai per natura di perseguire dunque c'è una direzione questa direzione non è garantita non è garantita tanto meno dalla tecnica o dalla scienza ma è affidata interamente all'etica alla politica e al diritto e quindi all'orizzonte della prassi questo è Kant quindi per riassumere nell'illuminismo in generale e in Kant in particolare l'idea è questa la storia ha una direzione la direzione è verso un ordine cosmopolitico in cui le persone sono libere sono agenti autonomi vivono in stati sovrani e questi stati sovrani stanno in pace fra di loro questo è ciò che è auspicato ma è anche ciò che dobbiamo fare e se pensiamo che questo sia possibile questo può accadere ma se pensiamo che non sia possibile non accadrà non è un progresso automatico lo ripeto dipende veramente dalla nostra libertà non è stabilito da nient'altro questo è l'illuminismo ed è importante che si ricordi che questo spesso non viene riconosciuto l'idea dell'illuminismo come appunto razionalista scientista positivista è un'immagine assolutamente fasulla facciamo un passo avanti arriviamo a Hegel allora Hegel è il filosofo della storia se c'è un diciamo una chiave di volta generale del sistema hegeliano è proprio quello della filosofia della storia come diciamo visione complessiva della sua riflessione per questo le opere che diciamo possiamo ascrivere alla filosofia della storia nella produzione di Hegel sono molte senz'altro la fenomenologia dello spirito in parte l'enceplopedia delle scienze filosofiche ma soprattutto le sue lezioni i suoi corsi noi oggi disponiamo di questi corsi in particolare disponiamo dell'amplissima mole di materiali dei suoi corsi di filosofia della storia che sono stati pubblicati in diverse edizioni c'è una edizione lunga è una edizione breve l'edizione breve si intitola pubblicata in Italia per la terza lezioni sulla filosofia della storia è un testo estremamente interessante anche Hegel come Voltaire traccia una filosofia della storia globale questa filosofia della storia si rivolge e ricostruisce le figure fondamentali delle culture sul globo secondo un ordine queste figure fondamentali delle culture sono la cultura orientale che in prima battuta è la Cina poi l'India poi la Persia poi la Grecia poi Roma e poi i regni romano germatici cristiano germanici Hegel ricostruisce tra l'altro è interessantissimo quel testo perché lui si nutriva di letteratura di viaggi e di letteratura etnografica di letteratura culturale antropologica quando ancora nessuno lo faceva mentre per gli illuministi la fascinazione per le culture orientali era un po' un gioco per Hegel è materia di dottrina di studio e la conoscenza che Hegel dimostra di avere naturalmente paragonabile a quello che si poteva avere nella prima metà dell'ottocento delle culture altre è strabiliante e il racconto di Hegel è straordinariamente interessante quindi molto nutrito di informazioni ma queste informazioni sono tutte incasellate dentro una chiarissima e precisa idea teoretica qual è l'idea teoretica di Hegel? allora intanto Hegel è l'autore in cui la storia viene concepita precisamente come il luogo della realtà umana tutta la realtà umana e tutto l'essere di cui l'uomo può parlare è storia e questa storia corrisponde alle figure dello spirito cioè l'evoluzione storica sul globo corrisponde ai progressi dello spirito questa evoluzione storica è un'evoluzione diciamo rigorosamente determinata da una cadenza logica questa cadenza logica è lo sviluppo della libertà la legge della storia per Hegel è la legge della libertà come funziona questo racconto in Hegel la suddivisione è questa nei regni orientali la libertà è di uno solo cioè l'imperatore tutto il popolo è in realtà corpo dell'imperatore obbedisce meccanicamente ai suoi comandi e non è libero ma l'imperatore è sommamente libero perché ha il potere più grande che si possa immaginare cioè quello del potere di una moltitudine questo corrisponde alla prima figura dello spirito cioè la libertà di uno solo e Hegel dice questo è il carattere orientale il carattere cinese in particolare questo carattere orientale è così e dice dice Hegel i popoli della terra assumono la guida della storia come figure dello spirito una sola volta nella storia per cui gli antichi regni cinesi sono il momento in cui la Cina ha avuto la guida della storia questo tempo è passato e non è più la Cina non sarà mai più la Cina la guida della storia il movimento della storia va da oriente a occidente e per Hegel cosa che per noi sembra difficile da accettare per Hegel c'è un oriente assoluto l'oriente che per noi europei è l'oriente la Cina il posto dove sorge il sole è l'oriente punto quindi la Cina è oriente in senso intrinseco seguo allora la c'è un oriente assoluto e un occidente assoluto lo riassumo il racconto che Hegel fa di questo processo da oriente a occidente attraversa prima l'India l'India è il momento della disgregazione dell'unità del popolo e della molteplicità indistinta la molteplicità delle divinità per esempio la molteplicità delle etnie la molteplicità delle lingue e il caos dal punto di vista della costituzione politica in Persia si comincia a costituire un'unità intorno alla religione zoroastrista per cui c'è una consapevolezza dell'unità e ancora una libertà che comincia ad essere molteplice ma è solo con l'arrivo in Grecia che questa molteplicità diventa il luogo di formazione di una classe aristocratica che è libera dunque in Grecia e poi sarà lo stesso in Roma la libertà non è più di uno solo ma è di molti molti non tutti in realtà di pochi si dovrebbe dire cioè della classe aristocratica che è quella che fa la storia solo gli adulti maschi ricchi guerrieri e greci sono coloro che fanno la storia e lo stesso vale per i cittadini romani ma i cittadini romani sono riconosciuti cittadini romani su basi non semplicemente etniche ma su basi di diritto le basi di diritto significa tutti coloro che sono cittadini romani e nell'impero questo significherà tutti i cittadini riconoscibili come tali dell'impero sono liberi hanno i diritti della libertà della libertà di determinarsi di fare di compiere azioni sono soggetti giuridici e poi il racconto di Hegel arriva al cristianesimo e ai regni cristiano-germanici e dice qui per effetto dell'universalismo cristiano e del diverso sistema di governo delle tribù germaniche che riconosce un ruolo a tutta la comunità politica abbiamo finalmente che tutti sono liberi e allora i regni europei sono regni che per Hegel hanno la loro forma essenziale in quelle forme di monarchia perché Hegel poi è un monarchico in cui però il re esprime tutta la comunità e la monarchia fondamentalmente è una monarchia costituzionale in cui tutti i cittadini hanno uguali diritti questa idea per Hegel costituisce il punto di arrivo della storia lui scrive nelle lezioni sulla filosofia della storia Hegel dice la storia va da oriente a occidente e l'Europa è senza dubbio lui scrive proprio l'Europa è certamente la fine della storia questa tesi ha avuto una grande fortuna anche successivamente André Kojev ha preso sul serio questa tesi ha dato una lettura della fenomenologia dello spirito estremamente interessante per cui l'esito europeo è il modello politico che vincerà sul globo e questo Kojev scriveva negli anni trenta la storia sembrava smentire tutto questo per certi aspetti fino al 1989 dopo il quale un autore nippo americano che si chiama Francis Fukuyama dopo la caduta del muro ha scritto un libro che ha avuto molta fortuna che si chiama La fine della storia e l'ultimo uomo in cui Fukuyama sosteneva la tesi vedete che Hegel aveva ragione le democrazie liberali d'accordo non le monarchie ma democrazie liberali o comunque monarchie costituzionali sono quel sistema politico economico culturale che ha vinto sulla faccia della storia il blocco sovietico è sconfitto e la forma di vita che chiamiamo democrazia liberale è quella a cui prima o poi tutte le comunità politiche si allineeranno e Fukuyama diceva questo con certo tono anche trionfalistico questa è una grande responsabilità ma è anche qualcosa che si legge nel conflitto che si è risolto fra blocco democratico e blocco totalitario ora io non commento naturalmente ho provato ad analizzare un po' questa tesi in un libro che si chiama La condizione neomoderna e ho detto che mi pare che la storia abbia definitivamente smentito questa tesi che la storia ha ricominciato a correre e che è tutt'altro che vero che le democrazie liberali siano la fine della storia per bello o brutto che questo ci possa sembrare allora cosa rimane rimane diciamo ci è dato anche come compito il tentativo di sviluppare una concezione della storia più realistica e anche meno necessitarista perché la grande differenza tra Hegel e Kant non è solo che Hegel individua un movimento da Oriente Occidente di cui Kant diciamo non si sarebbe mai peritato di sostenerlo ma è che il movimento che Hegel vede essendo un movimento del concetto per Hegel è il concetto dello spirito che va da Oriente Occidente questo sviluppo è logico il che vuol dire che lo sviluppo che lui ha disegnato è necessario e automatico ecco da dove viene la nostra precomprensione del progresso come necessario e automatico in parte ci viene proprio dalla filosofia hegeliana che dice che questo sviluppo per forme di contraddizione è uno sviluppo necessario è necessità allora quest'idea è un'idea che presto è stata molto criticata e uno dei suoi critici più feroci certamente è stato Nice allora come funziona la filosofia della storia di Nice in realtà in Nice possiamo rintracciare almeno tre filosofie della storia una allora le enuncio e mi soffermerò in realtà più su una delle tre Nice in alcuni testi mostra una concezione della storia che sembra parlare di una decadenza come direzione naturale della storia è la concezione nichilista come funziona questo dispositivo funziona così mentre Hegel nella direzione da oriente occidente sostanzialmente traccia una linea ascendente che va dalla libertà di uno alla libertà di tutti verso l'alto verso un progresso appunto politico scientifico culturale sapienziale per molti aspetti diversi testi di Nice fanno esattamente il contrario prendete il racconto la descrizione l'analisi che Nice fa nella nascita della tragedia la l'unità originaria di Dioniso con gli spiriti terrestri e la bella unità greca tra corpo materia natura e umano viene spezzata mano a mano nel corso della tragedia da Eschilo poi Euripide poi Soffro e poi Euripide e quando arriva Socrate cioè quando arriva la filosofia la separazione dell'uomo dalla natura è compiuta e si compie un allontanamento dell'umano dalla sua stessa natura per cui tutto il progresso del tutto il cammino della cultura occidentale da Socrate in poi è un allontanamento dalla natura è un allontanamento dall'unità originaria ed è una decadenza per Nietzsche tra l'altro Nietzsche esprime quest'idea attraverso il francese io sono sempre stupito di quanto i filosofi italiani amino citare le parole in tedesco ma specialmente parlando di Nietzsche o di Hegel ma in realtà per Nietzsche la cultura più alta che l'Europa ha espresso è la cultura francese e per quando deve esprimere un concetto profondo Nietzsche usa il francese così per esempio il concetto di rassentiment di risentimento ma soprattutto il concetto di decadence allora Nietzsche dice se guardiamo bene dalla cultura america alla cultura tedesca dell'ottocento è una progressiva decadenza e noi ci stiamo avviando verso il nulla e questo nulla accadrà l'uomo è destinato a perire l'uomo è un animale morente e verrà soppiantato da forme di vita alternative più vitali più forti più creative più potenti questa è una filosofia della storia in Nietzsche che ha avuto una grandissima influenza nel novecento nel novecento subito dopo Nietzsche si vedono opere come quella di Oswald Spengler che si intitola Tramonto dell'Occidente si vedono opere come Dialettica dell'Illuminismo in cui si dice che già dai poemi omerici è cominciata la separazione soggetto e oggetto e Orkheimer e Adorno finiscono per dire che questa separazione diventa la cultura borghese che è orientata verso il nichilismo e si vedono opere come quella di Heidegger in generale che dice ci siamo allontanati dal rapporto poetante con l'essere e ci siamo messi nella direzione invece di una filosofia che vede l'essere come ente come cosa da afferrare e manipolare e con ciò ci siamo condannati a essere separati dall'essere nel novecento questa lettura di Nietzsche è stata molto frequente e ha condotto a un rovesciamento della filosofia della storia geliana e incluso il fatto che questa decadenza viene pensata come necessaria e come una filosofia del progresso al contrario dove però appunto l'elemento di caduta non è rimediabile e molti intellettuali soprattutto postmoderni quindi intellettuali appunto dell'ultima metà del ventesimo secolo hanno proprio cercato di stabilire che questa direzione nichilista dell'Occidente diciamo è una è una strada ineludibile cioè è quello verso cui siamo orientati qualunque cosa facciamo quindi sempre con l'idea di una necessità del di questo regresso infinito fino al nichilismo e con ciò si tende a dire questi autori del postmoderni tendono a dire l'Occidente deve tramontare deve voler tramontare e lasciare la storia ad altri allora io non condivido questa visione come non condivido la visione geliana io sono un kantiano e penso che la possibilità di una visione cosmopolitica sia quella a cui attenersi ma volevo dirvi di almeno altre due e poi concludo altre due concezioni della storia che si trovano in Nietzsche una seconda concezione è quella per cui la storia come Nietzsche scrive nella seconda delle considerazioni inattuali quella che si chiama sull'utilità e il danno della storia per la vita Nietzsche dice la storia è il richiamarsi di giganti da una vetta all'altra dei tempi incuranti dei nani che chiacchiericciano alla loro pendice cosa significa questo significa che per Nietzsche la storia non è lineare né nell'andare verso l'alto né nell'andare verso il basso per Nietzsche la storia è un'onda e in questa onda ci sono vette e abissi le vette sono i momenti in cui si è più vicini alla verità e gli abissi quelli in cui si è più lontani dalla verità questi vette sono quelli su cui stanno i giganti che si riconoscono nella storia cioè un gigante riconosce l'altro si parla il livello a cui parlano i giganti non è il livello a cui parlano i nani i grandi della storia sanno di essere grandi e sanno di essere i punti in cui la verità si manifesta poi però ci sono gli abissi e gli abissi sono quelli in cui l'uomo è più lontano da se stesso ed è più lontano dalla verità e in questi abissi ci si perde in realtà in ogni tempo e qui c'è un passo ulteriore non è che c'è un'epoca gloriosa e poi c'è un'epoca decaduta in ogni tempo c'è la vetta e l'abisso perché tutto il tempo è assolutamente contemporaneamente presente per Nice il tempo non si distende il tempo è come dice Nice nello Zaratustra è la porta dell'attimo e sulla porta dell'attimo come dice Zaratustra si scontrano due strade una che viene dal futuro e una che viene dal passato e su questa porta si scontrano attenzione la metafora è importante da capire perché Nice non dice che noi stiamo sulla porta dell'attimo e da qui si dipana il passato e noi andiamo possiamo andare con la memoria verso il passato e da qui si dipana il futuro e andiamo avanti verso il futuro è il contrario il futuro ci viene addosso da lontano e il passato ci viene addosso da lontano e si scontrano e l'attimo è un scontro ora qui si passa dalla seconda filosofia della storia di Nice alla terza la terza filosofia della storia è l'eterno ritorno in questo punto dell'attimo c'è l'eterno ritorno dell'uguale che cos'è l'eterno ritorno allora in realtà la dottrina dell'eterno ritorno è molto semplice da capire perché insomma l'idea è questa per Nice la realtà fisica il mondo il reale è quantitativamente finito cioè c'è un mondo c'è un universo ci sono i pianeti tutto quello che volete ma il mondo è finito non è infinito fisicamente ha un limite non potete diciamo coinvolgere tutte le costellazioni che si vogliono ma il mondo è finito ed è costituito di materia di atomi materiali che si combinano in molteplici combinazioni ma se il mondo è finito il numero delle combinazioni possibili tra gli atomi è finito è un numero grandissimo ma è finito e per Nice invece quindi il mondo è finito e le combinazioni possibili degli atomi sono finite ma il tempo il tempo è infinito allora se il tempo è infinito e le combinazioni degli atomi sono finite allora le combinazioni si ripetono per forza perché supponiamo di avere tre elementi questi tre elementi possono combinarsi in tre alla terza nove combinazioni possibili in realtà sono sei sei combinazioni possibili allora se noi abbiamo sei combinazioni possibili queste si sviluppano in dieci minuti ma se noi abbiamo un'ora queste combinazioni si ripetono allora la dottrina dell'eterno ritorno in Nice da un punto di vista della spiegazione è semplice è questa cioè siccome le combinazioni possibili sono un numero x in un tempo infinito x riaccadrà infinite volte il problema è che questa concezione di Nice non è così semplice raccontare l'eterno ritorno in questo modo è quello che fa dire a zaratustra contro gli animali sapete zaratustra viene raccontato come un eremita che vive in una grotta e che è accompagnato dagli animali che stanno intorno a questa grotta gli animali quando zaratustra esce dalla grotta gli raccontano la storia dell'eterno ritorno gli dicono tutto ritorno uguale tutto si ripete come una ruota e tu ritornerai a vivere le stesse cose e lui dice lui si arrabbia con gli animali e gli dice e voi siete stati solo a guardare tutto questo non ne siete stati parte cioè la tesi di Nice è che la vera dottrina dell'eterno ritorno non è il dire che tutto torna ma è volere che tutto torni le tre enunciazioni della dottrina dell'eterno ritorno in Nice che si trovano in tre opere diverse sono tutte basate sull'idea vuoi tu ancora questo raggio di luna e questa tela di ragno e questo momento e questo diavolo che ti tenta e io stesso e tu stesso lo vuoi ancora allora la tesi qui di Nice è l'eterno ritorno è una scelta cioè precisamente è la dottrina etica di volere affermare la vita di essere dal lato della vita in maniera radicale tra l'altro la vita per Nice è sopraffazione è violenza dunque si tratta per Nice di volere quella forma che chiamiamo vita che è intrinsecamente sopraffazione in questo senso la dottrina dell'eterno ritorno di Nice è una filosofia della storia che è unitica in realtà e significa rifiuta ogni modo del volere che non dispieghi il potenziale della vita sapendo però che questo potenziale della vita dispiegato non è innocente che non c'è innocenza o meglio non c'è innocenza se noi giudichiamo secondo la morale secondo l'etica secondo i nostri abituali giudizi che cercano di mantenerci puri ma nessuno di noi può fare questo e allora in realtà il divenire che è la legge radicale di tutta l'esistenza per Nice è realmente innocente nel senso che dobbiamo liberarci della morale per Nice dobbiamo liberarci del giudizio dell'idea di colpa non c'è colpa il divenire è tutto quello che è e di lì non si può uscire e la sopraffazione la violenza deve essere non soltanto scusata giustificata ma voluta voluta questa è una filosofia storia che può essere molto fraintesa molto diciamo utilizzata malamente ma che ha una profondità ultima cioè quella di riconoscere che siamo nel tempo come volontà e questo comporta delle responsabilità e della profondità allora chiudo questi tre modelli sono il modello diciamo kantiano dove c'è un progresso possibile il modello hegeliano dove c'è uno sviluppo necessario verso lo spirito la pienezza dello spirito e il modello niciano di cui appunto diciamo manterrei come esempio quella che ha avuto più influenza cioè quella appunto l'idea della decadenza quindi filosofia della storia come progresso possibile filosofia della storia come sviluppo necessario verso lo spirito e filosofia della storia come sviluppo verso il nichilismo questi sono i tra grandi modelli della modernità ce ne sono altri ma questi mi sembrano essere quelli più rilevanti e mi fermo qua grazie Roberto dunque assoluto volevo chiedere cortesemente fino a che ora sei disponibile cioè noi solitamente diciamo le 12 ma se sforiamo un attimo dimmi sì va bene per le 12 12 e un quarto va bene va bene poi volevo prima di aprire le discussioni semplicemente leggere quello che avevamo con Walter diciamo perlomeno che Walter aveva associato un po' a questo incontro lo leggo perché c'era sotto mano Walter dopo te lo lascio al meglio esplicitare la domanda era questa ha ancora senso parlare di filosofia della storia come ricerca di un significato nelle vicende umane che superi l'immediato presente punto di domanda viene il sospetto che i cosiddetti millennials anche senza aver letto Nietzsche vivano unicamente il presente forse perché privati senza la loro particolare responsabilità sia di memoria storica sia di prospettiva sul futuro allora questo è quello che dice Walter a cui io aggiungo quindi la seconda domanda e sarebbe poi il caso allora di fornire loro una qualche soluzione però mi domando forse attualizzata faccio un esempio in questo periodo penso che seguiremo il discorso della teoria critica è stata attualizzata attraverso le generazioni siamo arrivati alla quarta generazione di cui poi tratteremo forse qualcosa di analogo andrebbe fatto in termini di filosofia della storia o no quindi due domande in una allora tanto grazie allora è verissimo quello che mi hai letto prima questa cosa che Walter ha scritto i millennials sono in una situazione tragica per loro perché tutte le ipotesi di sviluppo crescita e miglioramento della propria condizione sono state negate non soltanto diciamo nelle previsioni ma loro lo vedono cioè guardiamo un attimo le generazioni la generazione dei miei genitori ha vissuto il boom è cresciuta e ha visto crescere il proprio benessere in maniera abbastanza chiara e il reddito genericamente è aumentato nella classe media e la condizione anche dei lavoratori e delle classi meno avvantaggiate è in generale un po' migliorata la condizione della mia generazione io ho 57 anni adesso è già di non essere così avvantaggiati di non avere progredito come hanno progredito i miei genitori sono testimone di un calo del benessere del ceto medio e di un accrescimento del divario economico e sociale pazzesco cioè ci sono sempre ci sono i pochi ricchi che sono sempre più schifosamente ricchi e una massa di persone che precipita in condizioni di semipovertà o di povertà parlando delle società industrializzate figuriamoci il resto i giovani sanno di essere in una direzione dello sviluppo della società attuale dell'attuale sistema il sistema capitalistico che aumenterà queste discriminazioni e impoverirà ancora di più la classe media e la classe meno avvantaggiata avvantaggio di quei pochi e diciamo in questo senso la cultura circostante gli ha già dimostrato che questo non è solo una minaccia non è solo una possibilità ma è reale loro vedono che i loro genitori mio figlio ha vent'anni vedono che io ho meno di quanto aveva avevano i nonni o i racconti che io posso fare di quello che i nonni avevano raggiunto dunque è reale è reale e questa realtà è problematica al punto tale che appunto non è solo un difetto di consapevolezza storiografica è che la deprivazione del futuro è un'evidenza è un'evidenza assoluta ora questa è una condizione estremamente tragica a me sembra che io sono sempre molto sorpreso del fatto che le nuove generazioni per il quale gli attuali ventenni non siano ribelli al sommo grado rispetto a questa situazione e l'unico movimento che ho visto mettere in campo questa consapevolezza è i Fridays for Future che dice ci avete rubato il futuro ma ci avete rubato il futuro sul piano del pianeta però non soltanto sul piano del mio benessere non ci avete tolto soltanto la possibilità di avere più di quanto avevamo prima che è il sogno della crescita borghese no no ci avete tolto l'aria letteralmente letteralmente ora questo diciamo è solo un moto di rivolta che dichiara e denuncia un'ingiustizia ci vuole ci vorrebbe per salvarsi dalla disperazione che può condurre solo a violenza e ribellione inane ci vuole una ripresa di una filosofia della storia costruttiva e positiva è quello a cui diciamo tutto il discorso che vi ho fatto mira questo ciò a cui sto lavorando da sempre da diversi anni è questo la ripresa del discorso sulla filosofia storia sulla condizione neomoderna sull'utopia non sono certo il solo averlo ritirato fuori cioè se non c'è una capacità di offrire ai nostri più giovani concittadini la concezione che se la situazione attuale è così nera è perché c'è stato un certo percorso delle libertà personali che sono andate in quella direzione e che con un moto di libertà alternativo le cose possono cambiare se non c'è questa consapevolezza e si continua a raccontare la favola per cui o il progresso è necessario o l'inichilismo è necessario questo necessitarismo della filosofia della storia è falso è questo che bisogna dire bisogna smontare questa presunzione in cui ho quest'idea che andrà male adesso prima la cosa era andrà sempre bene e siamo sicuri che lo farà adesso è andrà sicuramente male e siamo sicuri che lo farà entrambe queste visioni anche quella catastrofica sono false è questo che bisogna veramente dire non c'è nessuna necessità nella storia la storia è fatta di esseri umani e gli esseri umani sono liberi quindi questa questa direzione della storia dipende esattamente dalle nostre scelte quindi è senz'altro il caso di provare a sostenere gli esempi e gli sforzi di un tentativo di miglioramento che confidano nella potenzialità di questo miglioramento e che siano però miglioramenti reali non fasulli quindi diciamo mi fermo qui nel senso che è un auspicio più che un auspicio cioè è veramente la cosa decisiva cioè se non cambiamo la nostra concezione della storia noi siamo condannati ma ci saremo condannati da soli questo è il problema invece per liberarci dobbiamo cambiare la concezione e dire qui è in gioco quello che noi possiamo fare e lo possiamo fare solo coordinandoci in una maniera ragionevole e le possibilità ci sono e bisogna semplicemente scorgerle e cavalcarle però questo vuol dire per molti aspetti cambiare il sistema cioè cambiare diversi aspetti dell'attuale situazione va bene Oscar vai tu sì grazie prima di tutto ovviamente la ringrazio mi è piaciuto tantissimo è sempre molto molto stimolante stimolante vuol dire che ho 100 domande da farle e non credo di farcela entro il 12 e in quarto non si sappia regolare ecco prendere i suoi provvedimenti no taglio e tra le mille cose che ho in mente comunque faccio collegamento a quello che è stata adesso la sua risposta alla prima domanda e al primo commento di Mauro dunque la prima considerazione la faccio pro domomea per una storia lunga che ho con tutti i colleghi che mi ascoltano e riguarda il fatto che si mi piace farmi vedere e verificare che ci sono tanti commenti per quello che riguarda etica e morale e poi alla fine quando si parla in piano pratico anche dei millenials che hanno dei problemi e quando noi diciamo va necessariamente bene o va necessariamente male si parla sempre di situazione economica ecco questo è un piccolo commento quindi bisognerebbe avere anche secondo me una chiarezza di poter separare i due argomenti o metterli insieme ma dare a Cesare quel che è di Cesare diciamo e all'economia quella che è di l'economia punto per quello che riguarda il problema di fondo che chiaramente è un problema enorme faccio due piccole considerazioni una è forse un filo provocatoria però ci si può pensare un attimo e la seconda invece molto diciamo più pratica quella provocatoria è ancora una volta qual è il problema fondamentale nel sviluppo della società dobbiamo fare stare bene il più numero maggiore di persone possibile questo è un rapporto tra la capacità produttiva dell'azienda mondo rispetto alla domanda che è data della popolazione l'azienda mondo è sempre stata sufficiente a dare come si dice benessere a un numero crescente di persone però questo numero di persone oramai ha superato gli 8 miliardi allora siccome la parte dell'offerta comincia a irrigidirsi non è forse non vale la pena di pensare un attimo invece di diminuire la domanda e questa è una considerazione alla quale comunque devo dare risposta e ha mille sfaccettature lo so benissimo anch'io però voglio dire facciamoci un pensiero l'altra questione invece per quello che riguarda come ognuno di noi e come ognuno di questi 8 miliardi vede il proprio futuro il proprio presente il proprio futuro devo dire che faccio mia una considerazione che ha fatto Walter più di una volta e siccome lo apprezzo tantissimo mi permetto di rubargliela una strada una possibilità di miglioramento è basata sostanzialmente sulla cultura io vedo che molti problemi vengono poi ingigantiti e anche in questo sono molto schietto nella mia definizione basate sostanzialmente dall'ignoranza sono considerazioni direi pienamente condivisibili raccolgo solo quell'elemento su etica ed economia allora così come la storia diciamo non è scritta secondo leggi di natura che ci sfugano e che siano totalmente indipendenti dalla libertà umana così è l'economia cioè anche questa è una favola che ci hanno raccontato che l'economia abbia delle leggi naturali immutabili che sono quelle scritte magari dall'economia classica o una certa interpretazione di essa e che quindi il sistema economico risponde a leggi che trascendono le nostre scelte questo non è così vero cioè il tipo di sistema economico il suo funzionamento derivano da alcune scelte di fondo e le scelte di fondo hanno a che fare con per esempio la relazione che c'è fra la produzione la proprietà il la distribuzione e appunto la ridistribuzione allora quello che lei poi ha detto mi pare dicendo non sarà il caso magari di ridurre la domanda e beh sì cioè ci sono c'è ci sono ottime ragioni per riconoscere che non è scritto nessuna parte che dobbiamo sempre crescere ma che il crescere è funzionale a un certo tipo di sistema in cui la ridistribuzione tende a essere poco equa quindi l'intreccio tra etica ed economia è inedibile cioè io non posso pensare in termini economici se non sto implicitamente assumendo no quale sia l'idea di bene nel sistema capitalistico l'idea di bene è identico a crescita crescita del PIL peraltro stiamo anche parlando di una unità di misura che molti hanno contestato e che non è decisamente l'unica unità di misura possibile quindi quella scelta lì potrebbe anche essere una scelta da rivedere e poi però questi sono territori diciamo con cui non mi voglio avventurare almeno non adesso il tema della teoria critica sarà poi successivo ma certamente dobbiamo un po' mettere in questione non tanto secondo me il tema crescita decrescita ma il tema distribuzione il tema distribuzione cioè il tema è a chi vanno i problemi forse questa cosa l'ho già detta mi spiace se mi ripeto ma il lavoro sarà sempre meno perché sarà sempre di più l'automazione l'automazione ormai è diciamo in grado di fare moltissime cose che attualmente sono fatte da lavoratori ma questo non può significare che chi possiede i mezzi di produzione si libera dei lavoratori e ha proventi fantasmagorici dall'attività dei robot e gli altri vagano per le campagne come è capitato quando si sono appropriati i landlords delle campagne per cancellare l'agricoltura e fare soltanto pascoli non può essere così noi andiamo incontro a una analoga trasformazione si deve pensare a una redistribuzione che è basata sul non lavoro guardate cioè è esattamente così cioè io non lavoro ma ho diritto a una quota parte del benessere prodotto dall'attività di robot automatismi macchine e altro ne ho diritto semplicemente perché esisto perché sono cittadino di questa città e questo cosa comporta che ci sia un sistema di tassazione adeguato quindi sui patrimoni sulle macchine sulle loro prodotte cioè o andiamo di lì o altrimenti non c'è scampo perché il lavoro sarà sempre meno sono discorsi abbastanza complessi non penso certo di risolverli in questo modo Mara a te contieni i tempi della domanda vai sì adesso cerco di ovviamente anche a me come Oscar ne vengono centomila di domande però cercherò di tirarne fuori una sola allora l'idea della pace perpetua del cosmopolitismo eccetera sono tutte cose che a noi generazione vissuta senza aver mai visto una guerra in prima persona sembrano così ovvie il bene è quello la pace vivere in pace ma soprattutto il progresso tecnico e scientifico che ci porta a benessere insieme a braccetto col progresso morale ci sembrano tutte cose talmente ovvie che poi ci stupiamo sempre che il resto del mondo chissà perché non le condivida una cosa che mi stupisce per esempio adesso quel poco che sentiamo di quello che dicono i giornalisti barra propagandisti russi sulle televisioni quando noi diciamo ma voi non siete democratici loro si stupiscono moltissimo e dico come noi siamo democratici allora come mai questo bene che ci sembra così ovvio non contagia tutto il resto del mondo e tutto il resto del mondo continua permanentemente a scannarsi e adesso forse anche noi finiremo per farlo allora so perché mi viene in mente una cosa pensate come sarebbero noiosi dei romanzi sulla pace perpetua su tutta questa gente che sta bene economicamente progresso scientifico ci amiamo perché facciamo film solo sulla guerra perché ci emozioniamo per la guerra perché adesso la resistenza eroica del popolo ucraino ci mette i brividi nella schiena come forse non ce ne mettono le riunioni del Consiglio d'Europa è provocatoria questa cosa allora intanto io distinguerei tra guerra e conflitto o meglio tra guerra e antagonismo come lo chiamava Kant l'antagonismo per Kant per esempio era una naturale modalità di relazione fra gli esseri umani gli esseri umani competono fra loro essi contendono i beni gli onori le aspirazioni quindi questa condizione è una condizione che per Kant per esempio è un'astuzia della natura che consente che ci costringe a sviluppare le nostre capacità quindi riprendendo quel che lei diceva senza antagonismo sarebbe tutto molto noioso e soprattutto sarebbe tutto molto poco sviluppato cioè non ci sarebbe sviluppo senza antagonismo ci sarebbe una accomodarsi nello status quo che non consentirebbe né l'arte né la cultura né una crescita niente di tutto questo ma appunto siccome la natura vuole che noi dispieghiamo il nostro potenziale ci costringe ad essere invece efficaci nella competizione ora questo è mi pare abbastanza arguto come argomento però va distinto dalla guerra cioè le forme della competizione dell'antagonismo se vogliamo anche del conflitto di opinioni o del conflitto chiamiamolo pure così del confronto o conflitto fra le civiltà non devono necessariamente prendere la forma della guerra per essere interessanti anzi sono più interessanti quando si fanno come si fa una competizione fra agenti razionali cioè che invece che ammazzarci magari ci sfidiamo a fare il miglior cercare di scrivere il miglior romanzo o scrivere il più interessante dei trattati produrre diciamo il miglior mezzo per muoversi quello più ecologico cioè la sfida che in parte è la sfida economica per cui tutto questo ma in parte non è sfida economica in parte è sfida culturale che non è necessariamente violenza cioè noi in Italia siamo anche molto abituati a questo le contese per fortuna le contese fra i campanili nelle nostre città e nelle nostre regioni hanno per fortuna preso nel corso dei secoli una vena bonaria per cui appunto io sono la mia famiglia ha origini di Parma non parlate a quelli di Parma di Reggio Emilia perché ovviamente si scatena la competizione no? va bene allora tutto questo non diventa una guerra allora questo è il punto Kant dice bisogna mantenere quella vivacità no? quella cosa contraria alla noia che è l'antagonismo ma senza finire nella guerra perché la guerra comunque è una tragica evenienza che in qualche modo non porta allo sviluppo della ragione della razionalità e delle nostre capacità perché distrugge ecco dove è il punto cioè lui dice la guerra è quel malinteso tragico per cui il conflitto competitivo diventa aggressione ma nell'aggressione nessuno guadagna neanche vincendo dunque penso che si possa avere dei romanzi molto interessanti anche senza guerra ecco diciamola così no interessare invece un ultimo un ultimo discorso sulla visione di Heidegger in termini di filosofia della storia non so se capisco di tipo escatologico un po' religioso e se mi puoi rispondere presenta alcuni problemi proprio il tema della storia nel modo in cui lui lo ha formulato ha qualche responsabilità cioè noi sappiamo che poi Heidegger in alcuni discorsi che lui non ha mai rinnegato ha poi detto che il destino dell'umanità è nelle mani del Reich e che il Reich ha il destino di ricondurre l'umanità a questa a quello che lui auspica che cosa auspica lui se vogliamo tralasciare un pochino questo discorso della sua adesione al nazismo che però diciamo dal punto di vista storico è innegabile ed è parte del problema teoretico non soltanto un accidente Heidegger è stato nazista non per caso ma per decisione coerente col suo sistema teoretico allora il sistema teoretico cosa dice è un po' quello che accennavo prima è in parte debitore dello stesso Nietzsche l'idea come vi ho accennato poco fa era nell'analisi della metafisica e della storia della metafisica Heidegger rintraccia una mossa originaria che l'occidente ha fatto e che quella questa è l'analisi che c'è in essere e tempo questa questa mossa originaria consiste nell'aver pensato lui dice l'essere come ente cioè aver pensato il reale nella forma della individualità del singolo ente che appare sulla scena dell'esperienza e che è offerto essenzialmente all'utilizzo da parte dell'uomo per cui in tutta la tradizione occidentale Heidegger vede questo movimento il movimento per cui di ciò che c'è a noi interessa allora dicevo la mossa fondamentale dell'occidente per Heidegger è quella per cui tutto ciò che c'è viene interpretato come lì per essere usato è la famosa zu handenheit cioè l'essere a portata di mano l'essere a portata di mano allora questo per Heidegger è la grande condanna della cultura occidentale motivo per cui tutta la filosofia la metafisica e quant'altro l'etica non ne parliamo sono caratterizzate da questo rifiuto di un rapporto con il reale che non lo cosifica non lo rende cosa manipolabile per Heidegger soltanto da un lato la poesia e da un altro non tanto la religione ma una una sorta di relazione sacrale con l'essere può salvarci il significato di quell'espressione che peraltro è tarda nella vita di Heidegger di quella famosa intervista in cui lui disse solo un Dio ci può salvare io non lo leggo in chiave religiosa lo leggo in una chiave sacrale cioè il rapporto con il reale deve essere restituito per Heidegger a una originaria coappartenenza in cui non si separa lo sguardo manipolatore da una parte e il reale come cosa data dall'altra ma si riconosce un una presenza un esserci un esserqui che è dato come intero cioè come immediata coappartenenza di tutte le realtà ora il punto che qual è che lui facendo questa accusa all'occidente da una parte rinnega tutto il percorso della civiltà occidentale e dall'altra si consegna a una forma di sapere che è arcaizzante è arcaico cioè è il rapporto con la terra il corrispettivo politico giuridico di Heidegger è Carl Schmitt e quindi l'idea del nomos della terra di questa adesione alle logiche originarie della terra che sono poi logiche amico nemico in Carl Schmitt cioè ripeto non è un caso che questi due signori fossero nazisti l'idea è che il nazismo era vitalista e quindi riconnetteva la vitalità originaria a una certa interpretazione di Nietzsche fra l'altro che Nietzsche non era antisemita era antitedesco figurarsi e litigò con gli antisemiti del suo tempo allora l'idea che il vitalismo dell'aderenza alla terra della fedeltà alla terra sia ciò che soltanto un popolo ha capito e che deve essere restituito cancellando tutto ciò che altri hanno fatto e beh questa mi sembra molto pericolosa quindi io non andrei a recuperare Heidegger soprattutto non questa parte magari altre cose sì senza altro no l'ultima curiosità era poi lascia tardi ma tutto esce fuori un po' dalla destra hegeliana o o sbaglio no esce anche dalla sinistra hegeliana cioè Feuerbach e poi Marx hanno soprattutto poi Marx Marx è abbastanza allineato all'idea di filosofia della storia di Hegel cioè comunque le contraddizioni del capitalismo che faranno esplodere questo sistema si manifesteranno necessariamente quindi come dire anche anche per Marx c'è una logica della storia che inevitabilmente conduce all'emancipazione ora questo fra l'altro è stato questo lo dice Axel Hornet molto bene in quel libro che si chiama l'idea di socialismo questa filosofia della storia hegeliana è stato ciò che ha tolto tantissima energia al movimento operaio al movimento socialista perché l'idea è ma tanto il capitalismo muore per conto suo no non c'è bisogno di come dire proporre trasferimenti e poi c'è un altro elemento in Marx il cambiamento può essere solo proprio perché è hegeliano totale cioè non si dà sapete la disputa fra comunismo e socialdemocrazia era questa la socialdemocrazia pensa alle riforme il comunismo pensa alla rivoluzione dunque Marx è come in Hegel dice la trasformazione deve avvenire necessariamente ma questa trasformazione avviene per rivoluzione cioè per rilasciamento radicale se tu vuoi cercare di lottare per alcuni diritti dei lavoratori per alcuni cambiamenti della struttura sociale in una forma più equa più giusta più redistributiva in realtà sei già un alleato del sistema e quindi vai combattuto sei il nemico interno l'unico modo per cui si può produrre un cambiamento sociale è il rivolgimento radicale totale rivoluzionario del sistema nel suo intero nel suo intero e questo è un problema enorme perché in parte ovviamente oggi lo vediamo cioè il sistema economico basato sull'accumulazione di capitale e una scarsa redistribuzione è un sistema dominante nel globo cioè il più capitalista dei paesi al mondo in questo momento è la Russia perché la concentrazione dei beni è in mano di pochi oligarchi che possiedono tutti i beni e le sostanze e ne traggono guadagni immensi e la popolazione è sostanzialmente asservita a un sistema di cui non capisce più nulla e diciamo quello che restava dell'economia sociale dell'Unione Sovietica è stato spazzato via ed è stato spazzato via da Putin e dai suoi oligarchi la condizione economica della Russia è assolutamente non brillante ma non per ragioni geopolitiche ma per ragioni interne perché la popolazione ha sempre meno protezione e copertura da parte dell'ex sistema sociale il discorso è diverso per la Cina perché la Cina in questo momento è in tale ancora crescita che finché c'è crescita tutti ne guadagnano però anche quello è un sistema a capitale non è un sistema politico di tipo comunista deve essere molto chiaro quindi mi pare che diciamo il punto problematico per me è proprio la filosofia della storia gheliana e quell'idea della necessità lì secondo me bisogna rimuovere questa pretesa che si possa fare scienza della storia non c'è scienza la storia è il luogo della libertà e quindi è un luogo in cui si ragiona intorno a questioni politiche in cui dobbiamo decidere la che parte stare ok se c'è ancora qualche domanda particolare Walter io ti ho interpretato prima non so se volevi meglio esplicare per dire due parole ringrazio il professore innanzitutto a me è rimasta una curiosità la butolino che è questa si può essere come il professor Mordacci credo di aver capito in linea con Kant per quanto riguarda la filosofia della storia per quanto da aggiornare per amor del cielo quindi di un progresso possibile se ho capito bene in termini di ragionevolezza quindi né necessitarismo all'insù né all'inggiù e essere come credo che il professor Mordacci sia anche un come dire uno studioso come dire che trova molto nella scuola di Francoforte perché francamente nella scuola di Francoforte io vedo non dico necessitarismo all'inggiù totale però molto pessimismo faccio un po' fatica grazie no no è così è così allora la mia scommessa è quella di fare una teoria critica se posso dire così non Francofortese ok perlomeno io trovo che Adorno sia di un pessimismo cosmico Orkheimer anche Marcuse no Marcuse ha questa questa idea dell'utopia che lui è un po' coltiva ha quest'idea per cui se ci sono le condizioni storiche giuste l'utopia non è più un sogno impossibile ma diventa una possibilità reale e lui per esempio nel 68 scrisse questo saggio sulla liberazione in cui dice proprio dopo aver scritto l'uomo una dimensione nel 64 anni dopo nel mezzo della contestazione studentesca dice ma io qui vedo molte energie di trasformazione emancipativa veramente attive no allora poi diciamo le generazioni successive sono meno legate al al pessimismo Habermas è un riformista Honneth lo stesso Honneth in quel libro che citavo prima l'idea di socialismo ma anche nel diritto della libertà dice bisogna cavalcare le lotte per i diritti le lotte per l'emancipazione queste sono strade positive per una trasformazione sociale e lo stesso la quarta generazione l'autrice secondo me più interessante di tutti in questo momento di teoria critica è Rachel Yeggi che è una lieva di 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 Honneth è appena stato pubblicato in Italia il suo ultimo libro che si chiama critica delle forme di vita e lei propone delle delle strade di trasformazione che riguardano le forme di vita attuali che non che quindi sono forme di emancipazione possibili e sono ci sono molte idee anche per un'azione politica trasformativa non non è non basata sul pessimismo quindi se seguite un po' questi autori qui secondo me sono interessanti Rachel Yeggi Nancy Fraser Hartmut Rosa anche se insomma lui non mi convince fino in fondo l'altro è Rainer Forst che è l'attuale direttore a Francoforte di Normative Orders che è il centro di ricerca che ha un po' ha soppiantato l'istituto per la ricerca sociale tra l'altro sapete l'istituto per la ricerca sociale oggi non ha più nemmeno un direttore Onnet è in pensione e l'istituto a Naspa non ha finanziamenti è fuori dall'università e quindi è in grave difficoltà non sappiamo se esiste ancora quindi insomma no penso che si possa fare per fortuna non sono l'unico mi sembra che voglia fare questa cosa ma vorrei provarci ecco va bene allora io direi ringraziamo Mordacci per la presentazione la presenza e rinnovo l'invito per l'anno a venire grazie grazie molte direi che ci salutiamo va bene grazie a voi davvero dell'attenzione che ho percepito anche attraverso questo mezzo e delle domande che erano anche integrazioni a quello che io ho detto perché naturalmente c'erano molte cose che ho tralasciato quindi grazie davvero a voi grazie a tutti grazie a tutti